Il 67,8% delle 28.000 denunce di infortunio per contagio da Covid-19 arriva da quattro regioni del nord. Lo si legge nel primo report INAIL sugli infortuni sul lavoro da coronavirus, secondo il quale Lombardia è la prima regione con denunce al 35,1%. Poi Piemonte con 13,4%, Emilia-Romagna 10,1%, il Veneto segue con 9,2%, la provincia di Trento al 3% delle denunce, Lazio 2,9%, Campania 1,6%.